Rav Shlomo, due minuti per presentarti, ok? Per far capire alla nostra audienza chi abbiamo qui. Qui abbiamo proprio un... si potrebbe definire un cavallo di razza, eh? Non vi ho portato una persona qualsiasi. Prima del Rosh Hashanah, prima del Capodanno ebraico, vi ho portato uno dei rabbini che si può definire il rabbino, quello con l'articolo che determina, eh? Quindi Rav Shlomo, racconta un goccio, un goccio chi sei e poi partiamo per raccontare che cos'è Rav Shosh Hashanah. Shalom a tutti, mi presento, sono un editore principalmente, faccio lezioni di Torah, sono venuto nel 1990 in Italia per diffondere l'ebraismo e per cercare di realizzare un sogno che avevo, quando sono cresciuto in Italia cercavo libri in italiano per studiare la Torah, la parola di Dio, valori, insegnamenti di vita e purtroppo c'era una grande scarsità e quando io crescevo mi sono detto io spero di poter cambiare questa situazione e quando mi sono sposato ho detto a mia moglie che era uno dei miei sogni, non sogni materiali ma sogni spirituali di vita e ho scritto al rebbe di poter fare questo, mi ha dato il rebbe di Lubavitch, mi ha dato una benedizione tramite Rav Garellic e così siamo venuti in Italia, ero il rabbino di un tempio, diversi posti, sono stato, ho iniziato, pioniere in alcuni settori nella diffusione della Torah anche sul web eccetera come chiamano rabbino tecnologico anche se io oggi ho la tecnologia perché mi fa perdere tempo Ormai Ghiula mi ha superato di brutto Ma figurati Faccio i complimenti Per il grande lavoro che fa Siamo qui per parlare adesso delle festività, visto che stiamo proprio per iniziarle Ho detto che io non voglio spiegarlo da sola Perché comunque io dove vado a studiare? Su testi di persone come te, ho detto voglio andare direttamente alla fonte Voglio portarvi la fonte di alcune delle mie ispirazioni Voglio riportarne una, Ransh Lomo, che ho letto tua bellissima, che magari la racconti tu Perché noi usiamo intingere la mela con il miele nel giorno del Capodanno? Perché proprio nel miele? E poi l'italiano è anche bella perché mela e miele sono quasi le stesse lettere C'è un piccolo gioco di parole A me piacciono i giochi di parole, tutti lo sanno Sono malato di giochi di parole Perché c'è un po' tanta saggezza Sì, mela e miele, l'amaro Prendiamo l'aspro nel dolce Che anche trasformare le cose aspre Che noi ci auguriamo di poter trasformare Tutte le cose che sembrano aspre Ma non esiste nella vita qualcosa di aspro Qualcosa di acido, qualcosa di negativo Solo che a noi proprio abbiamo la facoltà Proprio di trasformare Noi siamo qui proprio per trasformare tutte le situazioni negative Che sembrano negative in positive Non più tardi di qualche giorno fa Perché l'ape punge E però produce il miele E quindi noi proprio ci auguriamo Che tutte le cose che sembrano pungerci In realtà si trasformino poi in miele In qualcosa di dolce Questa l'avevo sentita da te E la ripropongo ogni anno Perché mi piace tantissimo Sì, veramente ogni cosa che succede Nella vita Veramente noi siamo qui Per vincere le nostre sfide quotidiane Sfide di ogni momento Di ogni ora Di ogni momento E una delle sfide principali In questo millennio Come dice il grande psicologo Avram Tversky È quella di vincere la depressione La malinconia La tristezza Praticamente riuscire a trovare Il bene in ogni cosa E questa è la mela Che è un po' aspra Nel miele che è dolce Cioè prendere la situazione aspre E riuscire a trovare Il loro punto dolce Che in realtà tutto è dolce Tutto è per il nostro bene Ecco perché noi anche ci auguriamo C'è nato Un anno buono E anche dolce Non basta che sia un anno buono Ma abbiamo il dovere Di trovare Di trasformare l'anno buono In dolce Cioè tutte le situazioni Di quest'anno Ci auguriamo Di poterle trasformare In qualcosa di dolce Di riuscire a trovare La profondità nascosta Che in realtà C'è sempre del bene In ogni cosa Posso dare un piccolo esempio Che mi è capitato Proprio l'altro ieri Quando ero con Giuseppe Cruciani Eravamo in sinagoga Per la circoncisione Il nostro amico Della zanzara Allora Mi fa vedere Mi dice Vedi qua Mi dice Ieri Stavo correndo E sono inciampato Su un tombino E mi sono fatto male E ci aveva un cerotto Cioè è caduto Sulla faccia Sul davanti E si è ferito qui E poi si è ferito Anche non so Così Ho detto Lì per lì Non c'era la possibilità Poi dopo gli ho detto Sai che l'altro anno Sono cadute due Di miei amici Sono inciampati in avanti Uno Un amico Che è inciampato E si è rotto il naso Cadendo in avanti Perché aveva le mani In tasca E non è riuscito A parare la caduta Ecco perché Quando uno corre Va a cammina Mai avere niente in mano Perché se Per qualsiasi ragione C'è un tombino C'è un qualcosa Che sporge Almeno abbiamo Qualcosa su cui E poi C'è un altro Invece che è caduto Sul braccio E si è rotto il braccio Gli ho detto Tu te la sei cavata Con due ferite Sei fortunato Devi ringraziare Il Padre Eterno Perché lui un po' Si lamentava Ieri sono caduto E c'era questo tombino C'era questa cosa qua Non è Dico sei fortunato Anzi Hai avuto una manifestazione Di amore Di Perché magari oggi Doveva venire La circoncisione E questo Ti ha dato una benedizione Che sei riuscito A non farti E lui mi ha detto C'è ragione Ho detto Tu devi sempre Noi abbiamo il dovere Di cercare E di trovare Sempre il mezzo bicchiere Pieno E questo è L'auguro Che ci si dà All'inizio dell'anno Speriamo Che riusciremo Sempre A non farci prendere Delle emozioni Della rabbia Perché Come mai Perché è successo questo Perché hai fatto quello Lo dico anche a me stesso Io parlo sempre a me stesso In primis Per cui Speriamo ognuno di noi Di avere un anno Buono Ma anche dolce Cioè Trasformare Quelle situazioni Ambigue In dolci Bello Quindi primo augurio Già lo prendiamo Ce lo prendiamo Ce lo facciamo nostro Secondo Il grande psicologo Questa è forse La cosa più importante Che dobbiamo fare oggi Secondo La malattia del terzo millennio È La depressione Mancanza di autostima Tutte queste cose qua Che poi Mancanza di autostima Porta Per cui sicuramente Sulle soglie Del nuovo anno Sicuramente Noi auguriamo a tutti Di poter trovare Il modo Come prendere la mela L'aspro E metterlo nel miele E trovare il dolce Che c'è in ogni situazione Pensa che Negli studi Che io ho fatto Per fare Terapista Raccontaci Raccontaci Che è un argomento Molto importante Molto attuale Si trova Proprio uno dei punti Più importanti È questo Quando uno descrive Le esperienze negative Che ha avuto Non esiste qualcosa Di negativo Che non contenga Un nocciolo positivo E quindi Ogni cosa Che succede Il lavoro Che faccio Con le persone Che vengono da me È proprio questo Di guardare E di sviscerare La cosa Per cercare Ok Come dici tu Sono caduto Una delle cose Che uno potrebbe dire Sei caduto Vuol dire Che sei in grado Di camminare E quindi Di cercare Sempre la cosa buona Che sta dietro Questo evento Che è venuto Per ricordarci Quale forza Noi possediamo Che se non fosse successa Questa cosa Che ci sembra negativa Noi non avremmo Capito di avere E quindi A volte ci sono Queste cose Che ci sembrano negative Che in realtà Sono come un campanello Per raccontarci Ricordati Possedi questa forza Ma te ne sei dimenticato E quindi Proprio arrivano Queste cose Che ci sembrano In realtà brutte Per darci un messaggio Buono Quindi questo Aprochiudo la parentesi Questo che È appena detto Io chiamo Io lo paragono A una Ferrari Un bolide Che abbiamo Nel nostro garage Chiuso Che noi Non lo tiriamo Mai fuori E andiamo A 50 Oppure se lo tiriamo fuori Andiamo a 50 all'ora Perché siamo in città Non si può Tra poco vogliono mettere I limiti di 30 all'ora Figuriamoci E allora Noi questo Questa super macchina Che abbiamo Il potenziale nascosto Che abbiamo dentro di noi Quando è che possiamo Portarlo fuori? Quando andiamo In un'autostrada Un'autostrada senza limiti Un autodromo Cioè lì abbiamo Possiamo dare sfogo Al nostro potenziale Ebbene Nella nostra vita Queste situazioni Di apparente Disagio Aspre Di asprezza Sono queste Le autostrade Che ci permettono di Ecco il nostro Ferrari Tiriamola fuori Dal nostro garage Che sta lì a marcire Ad arrugginire E lì possiamo dire Wow Finalmente abbiamo l'occasione Di portarla fuori Per cui non sono Degli inciampi A proposito di inciampare Ma anzi Sono Dei trampolini Con delle occasioni Dei lanci Che ci possono lanciare Molto E svelare Il nostro potenziale Nascosto Rashlomo Come avrete capito È un pozzo Di conoscenza infinito E quindi Se noi gli premiamo Pausa Va avanti Può tenerci Probabilmente Per i prossimi tre mesi Qua in diretta Forse Poi dopo Si lamenterebbe Un po' Facebook Rashlomo È una cosa È veramente Una luce Ma io ti porto qui E io dico sempre Ho detto anche A mio marito Poco fa Io ti ho portato qui Per un motivo Un po' egoistico Perché Mi piace Avere questa preparazione Ad hoc La risposta Alle domande Che ho sempre Per la festività E quindi Questa festività Che arriva domani sera Che dura per 49 ore Che è inizio Che è il nostro Capodanno ebraico Io vorrei che tu Ci raccontassi un po' Prima di tutto Che cosa è L'essenza Delle feste ebraiche Cosa sono queste Feste ebraiche Che di cui noi Parliamo tanto Abbiamo sempre Questi grandi Preparativi È solo cibo È solo ritualità Raccontaci un po' Che cos'è una festa ebraica Che cosa Che cosa segna Nella vita Della persona Più di 500 anni fa Il grande maestro Rabbi Yitzhak Luria Sopronominato La Risal Ha rivelato Che ogni festa Non è un ricordo Di un passato Che è successo Ogni festa Si ripete Di nuovo Quella rivelazione Che è successa In quella festa La ragione Per la quale Noi gioiamo Celebriamo Siamo allegri Siamo felici Perché noi In quella festa Stiamo ricevendo Di nuovo Quello che è successo Se è l'uscita Dell'Egitto A Pasqua Noi Riceviamo Quella manifestazione Divina Quella rivelazione Che ha fatto Tutti quei miracoli La riceviamo Ogni anno Di nuovo E non è un ricordo Di un passato Successo Ma è una ripetizione Di un passato Che è al presente Ogni festa È una nuova rivelazione Presente Così dice Il grande Ariakadosh Si basa Su un verso Nella Meghillah Di Ester Dove c'è scritto Che questi giorni Si ripetono Vengono ricordati E quando Vengono ricordati Si ripetono Ogni anno Si ripetono Le festività Per cui Shavuot La festa Chiamiamola Pentacoste E la rivelazione Sulla Torah La manifestazione Divina Sulla montagna Di Sinai Che ci ha dato La Torah Capodanno Quando Dio Ha creato L'uomo E l'uomo Ha raccolto Tutta la creazione Tutte le creature E ha detto A tutti Dobbiamo ricordarci Che c'è un Dio Che dobbiamo Quindi Aspetta Capodanno Il Rosh Hashanah È il momento In cui noi ricordiamo La creazione Dell'uomo Nell'anno 1991 Il Rebbe Ha detto Che La ragione Per la quale Noi festeggiamo Rosh Hashanah Il giorno Che l'uomo È stato creato E non il giorno Che il mondo Ha iniziato Di essere creato Cioè ovvero Sei giorni prima Perché noi festeggiamo Il sesto giorno Della creazione Non è solamente Per il fatto Che l'uomo È stato creato Un'altra creatura È stata creata Allora Solo per questo Noi festeggiamo Il sesto giorno Ci sono anche Altre creature Il Rebbe Ha detto E ha spiegato In lungo Che lo scopo Il valore Del Capodanno Ebraico Che è il primo Diti Shrei Che è il sesto giorno Della creazione Del mondo È legato al fatto Che il mondo Ha iniziato A entrare Nella sua Nel suo valore Di esistenza Perché il mondo È stato creato Per creare Una dimora Per Dio Nel mondo Creato Nel mondo Terreno Nei livelli Più bassi Allora Quando l'uomo È stato creato Lui È quello Che può È quello Che ha iniziato A realizzare Questo piano Quando lui Ha detto Tutti gli animali Il famoso salmo Che noi diciamo Sharmelach Cento Che lui Ha detto Che dobbiamo Ringraziare a Dio Perché lui Ci ha creato In quel momento Il mondo Ha iniziato Ad avere una ragione Di esistere Ha iniziato A realizzarsi Lo scopo Della creazione Per cui Noi Celebriamo Capodanno Perché in questo giorno Si realizza Lo scopo Dell'esistenza Del mondo Ma in particolare Dell'uomo Perché l'uomo È l'unico Che dà un senso A questo mondo Che può creare Una dimora Per Dio Ok Quindi praticamente Ricelebriamo Ogni anno Da capo E riceviamo Le forze Ogni anno Da capo Per fare in modo Di trasformare Questo mondo Che è Un cumulo Si può dire Di cose materiali In realtà In qualcosa Di spirituale Questo non vuol dire Annullare la materialità Ma significa Spostarla Al servizio Della spiritualità E della divinità Quindi voglio Dargli uno scopo superiore Non guadagno Il denaro Perché voglio Mettermelo in banca Ma guadagno Il denaro Perché voglio Aiutare le persone Perché voglio Diffondere l'ebraismo Compro libri Di Rav Shlomo E in questo modo Aiuto a diffondere L'ebraismo Rav Shlomo Tra l'altro Io tra parentesi Sempre Quando mi dichiano Su quali libri Posso studiare Arrivano da te Ok Quindi Rav Shlomo Sicuramente Rav Shlomo Lo fa ogni giorno Questa cosa Che trasforma proprio Il mondo materiale In qualcosa di spirituale Quindi questo È diciamo Il compito Di cui noi Veniamo Praticamente Dio Ogni anno Da capo Ci ricorda Questo è il vostro Compleanno Dell'essere umano E nel compleanno Io voglio celebrare Questo compito Questa missione Che vi ho dato Perché non è che siamo Venuti al mondo Così Per non far niente Praticamente In questo giorno Noi veramente Ci rendiamo conto Che siamo venuti Qui per una ragione Una vita Senza una ragione È una vita Veramente Da miserabile Se qualcuno Non trova Possiamo dire Possiamo dire Che questa è la prima Vitamina dell'anima Lo scopo Nella vita Veramente La prima vitamina Allora È un argomento Molto lungo Quello delle vitamine Dell'anima In realtà Partono da Pasqua Ma un argomento Che magari Avremo occasione Delle cinque vitamine Dell'anima Di parlarne Bene Parliamo un po' Perché abbiamo messo Come titolo Quindi dobbiamo raccontare Qualcosa Allora Parleremo Molto veloci Però forse possiamo dire Forse possiamo dire Che una di quelle Cose Che aiuta L'essere umano A ritrovare la serenità E a scacciare la depressione È sentirsi in missione È avere uno scopo Nella vita Sì Questo è Io riporto Viktor Frankl Viktor Frankl Sì stavo per dirlo Ma è totta le parole di bocca Viktor Frankl Ha guarito così Migliaia e migliaia Di persone Dandogli uno scopo Superiore Che non è lo scopo Diventa Un elettricista Ma lo scopo è Metti Te stesso Il tuo potenziale A servizio del mondo E degli altri Diciamo che Viktor Frankl Ha detto Che anche Diventare Un qualcosa di speciale Anche un elettricista Può fare Può sviluppare Qualcosa di speciale Nel suo campo Però per aiutare gli altri Per aiutare gli altri Non solo per se stesso Esatto Ma ha parlato Sì Ma anche Avere una missione Un qualcosa Un valore Un valore Dei valori Felicità Fede Lui che non era religioso Parlava di fede Perché se una persona Non trova qualcosa di spirituale Qualcosa di profondo Nella sua vita Dentro di sé Nel proprio corpo Perché c'è corpo Anima e corpo Il corpo da solo Non può vivere Perché uno corpo Che è perfetto Ma non vive più Perché non c'è più l'anima Non ha più vita Per cui c'è Dobbiamo trovare sempre L'equilibrio Tra i due E lui Frankl Non da religioso Da laico Lui si considerava Dice che bisogna trovare Valori spirituali Nella vita E come ci insegnerebbe Che una persona Che pensa E accontenta E nutre Solo il corpo Senza pensare all'anima Non potrà mai Essere felice Impossibile E come una società Dove ci sono due soci Al 50% E uno viene totalmente Ignorato in continuazione E l'altro viene solamente Ascoltato Alla fine Questa società scoppia Noi Ognuno di noi È una società Di anima e corpo Corpo E le due componenti Vanno Tutte e due Ascoltate Nutrite E nutrimento dell'anima È Parole di Dio È spiritualità Valori Felicità Eccetera Per cui Diciamo che Le festività Se vogliamo parlare Di vitamine Sono Delle cariche Spirituali Che ci danno La possibilità Di dare All'anima Del cibo Spirituale Quello lo possiamo Avere ogni giorno Ma ogni tanto Ci vuole una carica Speciale Di un argomento Speciale Qualcosa di specifico E quindi A Rosso Sanal Capodanno Ebraico Che cos'è questo Nutrimento speciale Che viene Che arriva dai regni Superiori Rosh Hashanah Ma a Capodanno Noi abbiamo La facoltà E il dovere E l'opportunità Di caricare La nostra vita L'anima non ha bisogno Ma più il nostro corpo E' anima C'è un rapporto Anima e corpo Di cabalato Ovvero Accettazione Del gioco divino Di un gioco superiore L'uomo Da solo Senza Regole superiori Va alla deriva L'uomo che dice Sì è vero Alcol Crea dipendenza Fumo Crea dipendenza Quell'altra cosa Tutto Tutto può creare Dipendenza Però l'uomo Se lui è da solo Che decide Che non va bene qualcosa E' lui che sarà Il primo a dire Ma fa niente Oggi è sgarro Oggi chiudo un occhio Oggi faccio questo Oggi faccio quello Invece no Bisogna avere Una forza superiore Un gioco superiore Il corpo non è mio L'ebraismo dice Il corpo è un dono Che ho ricevuto Io lo devo Tutelare Lo devo rispettare Ho il dovere Di non danneggiarlo Per cui ho il dovere Di fare attenzione A questo corpo E devo avere Sottomissione Devo avere Delle regole Di ordine superiore Questa è una Delle forze chiave Dell'ebraismo Che noi Ognuno deve Maturare Questa consapevolezza Di gioco divino E questo succede Proprio A Rosh Hashanah Quindi a Rosh Hashanah Noi riusciamo A diventare Diciamo A riconoscere Che c'è Dio Sopra di noi E accettarne Il suo volere Questa è l'energia Speciale Che c'è in Rosh Hashanah Al Capodanno Ebraico Noi ci rendiamo Conto Che è vero Che la logica E l'intelletto Sono fondamentali Perché è Dio Che ce li ha dati Ma è anche vero Che non sempre L'intelletto È obiettivo Per esempio Spesso Volentieri Uno ragiona In funzione Dei suoi sentimenti È schiavo Allora lui riesce Anche a usare L'intelletto Schiavo Dei suoi sentimenti Per dire un esempio Quando arriva Il Capodanno Ebraico Rosh Hashanah Domani sera 5784 Dalla creazione Del mondo Ricordiamolo Quello è il momento In cui noi Abbiamo la possibilità Di coltivare Questa vitamina Dell'anima Perché nell'anima C'è questa forza Di sottomissione Del gioco divino E questo viene realizzato Tramite l'orecchio L'udito Perché le cinque vitamine Dell'anima Sono parallele Ai cinque sensi Come scritto Nel Salmo 115 Il re Davide Parla delle cinque festività In ordine Proprio Di bocca Pasqua Che è legata Alla fede Di Shavuot Pentacoste Noi riceviamo La Torah È il momento Dello sviluppo Della nostra visione Di Dio Perché Noi ogni anno Shavuot Rivediamo Il dono della Torah La rivelazione Infinita Di dieci comandamenti E questo succede Tramite l'occhio E noi In questa occasione Sviluppiamo La nostra Diciamo Visione divina Riceviamo Una grande rivelazione Arriva La terza festività Di Capodanno Rosh Hashanah Noi tramite l'orecchio E lo shofar Che noi ascoltiamo Nell'orecchio Che c'è tutta una spiegazione Perché è proprio L'orecchio Che è particolare Magari se avremo tempo Spiegheremo Perché È l'orecchio Quello che ci permette Di Coltivare Questo Questo dono Che abbiamo Perché è un dono Aver la forza Di accettare Un ordine superiore Non un ordine Di un altro uomo Attenzione Gli uomini Sono tutti uguali Ma l'ordine superiore Divino Questa forza Qui noi La possiamo E la dobbiamo Coltivare Il giorno Di Rosh Hashanah Tramite l'orecchio E lo shofar Il suono Della tromba Perché diciamo Che non è facile Per un essere umano Accantonare La propria Razionalità E dire Faccio un esempio Banale Noi adesso Spegniamo Per 49 ore Tutti i nostri Apparecchi elettronici E uno può pensare Eh ma magari Mi può servire Perché devo sentire La nonna Perché invece noi Accantoniamo tutta La nostra logica E ci sottomettiamo Al volere divino Che sappiamo Che il volere divino È il bene Diciamo supremo Per l'essere umano Perché l'essere umano Non è capace Appunto perché È inficiato Dalla soggettività Di vedere se stesso Non è capace Di capire veramente Che cos'è il bene Per lui Noi siamo limitati Quindi per noi Il bene è un conto In banca Che è pieno di soldi Poi magari Uno pieno di soldi E non è per niente felice Quindi Dio è capace Di capire Di dirci E lui ce l'ha detto Con le sue regole E appunto anche Con i momenti di festività Che cosa è bene per noi E quindi una delle cose Che è bene per noi È questo esercizio Possiamo chiamarlo così Mentale Di metterci da parte E accettare E accettare nella nostra vita Che entri Dio E decida Lui Per noi Possiamo dirla così? Sì In realtà E quindi perché Attraverso proprio L'ora Noi entriamo Del sabato E di tutte le festività Che noi Usciamo dalla dimensione Di Elohim Che è il nome Dove La rivelazione divina Passa tramite un filtro Che si chiama Natura Noi Durante il sabato Noi abbiamo La riceviamo Una luce infinita Come se noi Entrassimo nel palazzo del re Quando uno Entra nel palazzo del re Non può avere gli abiti Comuni Sporchi Della settimana Dove lui è andato a lavorare E un meccanico No Deve cambiare abiti Perché deve essere degno Di essere nel palazzo del re Sabato E le feste Dio si rivela E come In realtà Noi entriamo nel suo palazzo E dobbiamo Staccarci dalla materia Perché Per poter Ricevere questa Luce infinita Noi non possiamo Rimanere nel mondo naturale Nel mondo materiale E ricevere una luce Infinita Sovrannaturale Per cui noi Staccandoci Dalle azioni materiali Che ci limitano Che ci tengono Aggrappati Legati Cellulare Che ci crea dipendenza Che non ci lascia Non ci permette a noi Di elevarci E di poter ricevere Questa vitamina Questo nutrimento Dell'anima Noi spegnendolo Noi abbiamo la possibilità Di entrare In questa dimensione Superiore Dove riceviamo Una carica Sovrannaturale Che può darci Una forza Sovrannaturale Perché la natura Umana È quella di Fare le cose Solo quando lui Le capisce Se io non le capisco Non le faccio Ah c'è un ordine Superiore divino Ma no Deve essere tutto logico Ma naturale Questa è la natura Ma quando noi Usciamo Dal mondo naturale Nel giorno di Capodanno Perché abbiamo una festa Dove c'è una luce infinita E non è una luce Che è successa Solamente 5.784 anni fa Quando Dio Ha detto all'uomo Tu sarai per me Tu sarai quello Che realizzerà il mio piano Eccetera Eccetera E quello che rivelerà il mondo Che c'è una forza interiore Che c'è una forza divina In ogni oggetto In ogni creatura Eccetera Ebbene Noi Facendo questo Riusciamo a portare Dentro di noi Questa forza Che ci permette Di avere Delle regole Superiore a noi E questo ci dà Un vantaggio Perché l'uomo Ha bisogno di regole Superiore a lui Perché Se tutto è legato A quel che io capisco Come la famosa storia Di quello Del conferenziere Della sigaretta Giusto Sicuramente L'avrai raccontata Questa No Questa non la so Ma io la uso sempre Per spiegare Il valore Di qualcosa di Superiore Qualcosa di divino Che noi abbiamo La Torah Che ci dà Delle regole Ferre Che noi diciamo Non è che lo facciamo Perché è giusto Perché è logico Perché è igiene Perché è questo Perché non mangiare Carnellate Fa bene Non fa bene Può darsi che ci sono Anche tutte le spiegazioni Ma noi non lo facciamo Per questo Noi lo facciamo Perché abbiamo La forza Di accettare Una regola superiore Alla nostra logica Anche Una famosissima storia Vera Tra l'altro Di un conferenziere Che passa Tutta la giornata A spiegare Quanto è dannoso Il fumo E tutte le malattie E i polmoni Il cancro ai polmoni E questo E quell'altro E il cuore E fa tutte le spiegazioni In minimi dettagli Con proprio Un powerpoint La gente è terrorizzata E tutti quanti Tutti i presenti Dicono Mamma mia Noi la sigaretta Non la vogliamo più toccare È proprio un suicidio Toccare la sigaretta Eccetera Eccetera Lui alla fine Di questa conferenza Tira fuori la sigaretta E inizia a fumare E neanche un sigaro Che uno potrebbe dire Non è proprio la sigaretta Il male assoluto Come lui l'aveva descritto Precedentemente Durante tutta la giornata Allora I partecipanti Vengono da lui E dicono Scusaci Ma non sei stato tu A dirci proprio Che È gravissimo fumare Lui risponde Con prontezza E lucidità Quello che ho spiegato prima È la conferenza Questa sigaretta Sono io Questo sono io La teoria È quella La pratica È quello che il mio cuore Mi dice È quello che la mia mente Mi dice Questo sono io Noi di Rosh Hashanah Riusciamo A maturare Una forza Che noi facciamo qualcosa Non perché Solamente perché Noi la capiamo Noi la capiamo Però poi diremo Sì È vero Che è giusto La teoria è quella Ma quella è la teoria Ma quello che piace a me È un'altra cosa No 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 siamo padroni Della nostra vita Qualcuno ci ha dato Questo regalo Dobbiamo custodire Questo regalo Il nostro corpo È un dono Dobbiamo custodirlo Una persona dice Faccio Ad esempio Parliamo di dieta Che sempre si parla Di alimentazione e dieta È un argomento È un argomento molto ricorrente Uno dice Adesso stiamo avvicinandoci All'estate Diciamo prima dell'estate Adesso c'è la prova costume E tutti quanti Che vanno ai ripari Perché non vogliono Farsi vedere così In pubblico Non vogliono Allora Tutti che vanno ai ripari Vuoi fare le diete Per la prova costume Lo fanno solamente Per uno scopo così secondario Per farsi Mettersi in mostra Allora C'è chi ce la fa C'è chi dice Ma questo ne frega Io Non ho Non mi faccio condizionare Da quello che gli altri diranno di me Alla fine Tutte e due sbagliano Quello che fa la dieta Lo fa solamente Per uno scopo secondario Superficiale Finito l'estate Magari Di nuovo Cade Nelle tentazioni Mangia male Rovina il corpo Quando invece Uno fa una cosa Perché sa che il corpo È qualcosa di divino Qualcosa di Trascendentale E noi abbiamo il dovere Di custodire questo corpo C'è scritto nel Deuteronomio Venis Martem Dovete molto fare attenzione A questo corpo A questo dono Che vi ho dato Allora non è più Provo a custodire Costume Estate Io voglio fare Essere la fotomodella Allora mi devo mettere Allora se ho preso Un chilo in più No È una questione di vita Di ordine di vita Di disciplina Di qualcosa di superiore E se Non è che se Sono un po' Diciamo Possiamo fare Un esempio Sono come quelle regole Che noi da piccoli Non capiamo Che ci fanno I nostri genitori Che a volte ci fanno Anche molto arrabbiare Che però crescendo Capiamo che veramente Erano per il nostro bene Soltanto che diciamo Che il cervello Infatti il genitore Il parallelismo È molto È molto corretto Anzi L'onore ai genitori Rientra nel rispetto Che noi dobbiamo dare a Dio Perché il rispetto Genitore È incluso Nel rispetto a Dio Siccome dobbiamo rispettare Dio che ci ha procreato Così anche il nostro genitore Per cui Perfetto L'esempio Del Noi stiamo già sforando Perché io del genere Faccio 30 minuti Siamo già a 34 minuti Però vedo che abbiamo Un sacco di gente online Io vorrei soltanto spiegare Un attimino Perché so che tantissime persone Vedono questo corno Questo shofar E dicono Ma questi sono matti Proprio cosa si mettono a suonare Sto corno Una roba che sembra Un rituale Veramente un po' strano E quindi vorrei che tu raccontassi Che cosa rappresenta E che energie Veramente porta giù Nel mondo Il corno È un percetto biblico Quando noi lo suoniamo E noi richiamiamo La nostra essenza dell'anima Quando un figlio Si è allontanato Così tanto da suo padre Che lui Si è perso nella giungla Questo è uno dei tanti esempi E ci sono tante spiegazioni Si è perso nella giungla E lui Parla solamente La lingua Di questi Diciamo Queste persone E si dimentica La lingua Sofisticata Civile Che lui aveva E quando lui arriva Al palazzo del re Si ricorda che lui È il figlio del re Vuole tornare a casa sua E arriva al palazzo Ci sono le guardie No tu non puoi entrare Perché tu non Chi sei Chi sei E lui cerca di spiegare E non riesce a dirlo Non riescono a capirlo Allora lui a un certo punto Non ce la fa più Non si ricorda più Inizia a urlare Fa un urlo Senza parole Al di sopra Delle parole E praticamente Noi quando facciamo Questo suono Questo urlo Al di sopra Delle parole Che non è Limitato da parole Noi facciamo come Noi Emaniamo Questa espressione Nella nostra Essenza dell'anima Che diciamo Addio Tu sei il nostro padre Come il figlio del re Dice a suo padre Il re E il papà Il re Sente il suo figlio Dice ma questo è l'urlo Di mio figlio Ma questo è il mio figlio È vero che non si ricorda più Come bisogna comportarsi La civiltà L'ha dimenticata La lingua Però Questo risveglia Il legame essenziale Che c'è tra padre E il legame incondizionato E noi lo risvegliamo Tramite questo suono Dello shofar Il giorno di capodanno Che quest'anno Non lo suoniamo Di sabato Perché quando cade di sabato Non si suona Ma non perché ci manca qualcosa Perché lo suono Viene fatto in maniera Diciamo L'effetto dello suono Viene realizzato Senza che noi Lo dovessimo suonare Per cui è ancora meglio Quest'anno Ma lo suoneremo Solo di domenica Ricordiamo che Sabato Che è capodanno Non viene suonato quest'anno Perché cade di sabato E lo suoneremo Solo di domenica Io vorrei concludere Rav Shlomo Mi sa che dovremmo Di nuovo riaverlo Rav Shlomo Perché Rav Shlomo Io starei ore e ore A ascoltarlo francamente Perché posso dirti una cosa Si sente proprio L'amore che tu hai Per quello che insegni Quando parli È proprio commovente E non è soltanto Voglio dimostrarvi quanto so E voglio Voglio che anche voi Lo impariate Perché è una cosa bella È bellissimo Devo dire Sei un grandissimo Grandissimo maestro E se una persona Volesse prendere Un proposito Uno Per il nuovo anno Che arriva adesso Sfruttando questa energia Particolare Che sta venendo giù In queste 49 ore Quali dovrebbe essere? Tra l'altro Bisognerebbe fare Una decisione di miglioramento Ogni anno Ogni anno Di Capodanno Per dimostrare Al nostro Padre in cielo Il nostro Il re Che noi veramente Anche se magari Ogni tanto Abbiamo sgarato Non siamo stati Veramente fedeli E noi vogliamo Riconquistare La fiducia E riallacciare Il nostro rapporto Come In maniera Completa Noi ogni anno A Capodanno Dovremmo prendere Un'iniziativa Di miglioramento Però Non si può generalizzare Perché ognuno Per un ebreo Magari mettere Tefillin I filateri Sulla mano Ogni giorno Almeno Qualche volta Alla settimana Possibilmente Questo potrebbe essere Un'iniziativa Da prendere Per un ebreo Che è osservante Sarà qualcos'altro Di Aiutare il prossimo Non si può fare Una Una regola generale Però potremmo dire Una cosa importante Io a questo punto Vorrei richiamare L'insegnamento Che il Rebbe Il nostro maestro Mentore Il Rebbe D'Ubav Ci ha detto Che noi ci troviamo Nell'era messianica Quando arriverà il Messia Tutti quanti Saremo felici Perché Messia E felicità Sono le stesse lettere In ebraico Mashiach E Sameach Sono le stesse lettere E poi non solo Che saremo solo felici Ma saremo anche Rideremo Perché c'è scritto Nei salmi Non rideremo E il Rebbe Negli ultimi anni Ha aggiunto anche Che bisogna ridere tanto Allora io direi Se noi iniziassimo La giornata Con una bella risata Ecco perché Mi piacciono anche I giochi di parole Che bello Bellissimo Bellissimo Una risata Un'allegria Sapevo che arrivava Perché una delle più Grandi sfide Della mia vita È quella di essere felice Quindi sapevo Che mi avresti dato Un messaggio per me Me lo sentivo Bene Io parlo sempre A me stesso Per cui ogni giorno Cerco la mattina E se per caso Una giornata È iniziato Con un inciampo O con qualcosa Di storto Noi dobbiamo Saper riuscire A trovare un modo Di In realtà Questo è stato Un trampolino Per risvegliare Dentro di noi Quella forza nascosta Che ci permette Di trasformare Il buio in luce Perché siamo qui Per trasformare Il buio in luce È una risata Fa sempre bene La felicità è fondamentale La bike course Che ci è sempre Dobbiamo Sicuramente L'autostima è fondamentale Per riuscire A arrivare a questo Per cui coltiviamo L'autostima anche Di Capodanno Così saremo più forti E potremo sempre Essere allegri E vincenti In ogni situazione In ogni Secondo Della nostra vita Amen Grazie infinite Rav Shlomo Sei una luce Che va avanti All'infinito Sono molto onorato Sono un lavoro Bellissimo Grandissimo Continua così Kachem Ci benedica tanto Per accendere Sempre Tante anime Seguitelo Seguitelo Rav Shlomo Perché Rav Shlomo È un pozzo infinito Di conoscenza Veramente Grazie Rav Shlomo Sanatova Umetuka Un buon anno È dolce Amen Grazie mille Rav Shlomo Grazie Buon anno a tutti Buon anno a tutti Buon anno a tutti